Promuovere uno scambio internazionale di idee, esperienze e conoscenze sulla radiologia muscoloscheletrica, offrendo competenze specifiche nel campo dell'imaging, è l'obiettivo dell'evento internazionale in programma da oggi fino a giovedì 30 gennaio a Barletta nella sala congressi dell'ospedale Monsignor Di Miccoli. Quattro giorni dedicati ai clinici e specialisti provenienti da tutta l'Europa. I relatori si alterneranno presentando semplici radiografie, ecografie, TAC, risonanze magnetiche, PET, scintigrafia ossea, per affrontare la maggior parte delle tematiche legate alla specialità della radiologia muscoloscheletrica, incluso l'ambito pediatrico. Ad organizzare il corso il professor Giuseppe Guglielmi, titolare della cattedra di radiologia all'Università di Foggia. Parleremo e affronteremo in dettaglio le malattie degenerative, le malattie reumatiche, le malattie neoplastiche e le malattie metaboliche, in particolare l'osteoporosi, e presenteremo tutte quelle che sono le novità che le nuove tecniche di diagnostica per immagini, mi riferisco per esempio alla risonanza magnetica funzionale, alla radiomica, alla radiogenomica, hanno apportato per quello che è il nostro scopo, cioè quello di arrivare a una diagnosi la più precoce possibile per iniziare quanto prima gli adeguati trattamenti medici, chirurgici o di radiologia interventistica. L'incontro, ha spiegato il professor Guglielmi, oltre ad essere un'opportunità didattica, rappresenta anche un momento sociale da condividere in maniera collettiva. I colleghi provenienti da tutta Europa, che fanno parte della Faculti, noi stessi porteremo la nostra esperienza in ogni singolo settore, proprio per dire che negli ultimi anni la radiologia ha fatto dei passi veramente da gigante, anche quindi nel campo della radiologia muscoloscheletrica, e queste novità adesso non sono più soltanto frutto di attività di ricerca, che possono essere portate avanti solo in alcuni centri, ma che sono scoperte e che possono essere messe in pratica anche nell'attività clinica di tutti i giorni. Grazie a tutti.